E insomma oggi prima conferenza stampa della stagione di Simone Inzaghi che si è aperta con l'annuncio di Marotta Il rinnovo di Inzaghi ora è diventato ufficiale, un rinnovo che era nell'aria da molto tempo Ma che da oggi invece, e non è un giorno a caso, l'hanno voluto annunciare proprio Le 17 Esatto, nel giorno in cui iniziava la stagione diventa ufficiale Inzaghi diventa forse l'allenatore più pagato della Serie A, se la gioca con Conte Sì, ma il braccino corto dell'Inter, invece di fargli due anni, gli hanno fatto uno solo Uno solo in più, esatto, fino al 1926 Iniziamo subito a dire che è un giorno casuale perché anche l'anno scorso la stagione, la conferenza era il 12 di luglio Quindi lui, per scampo, lì Avete già vinto tutto Michele Borrelli era presente Questo è scaramanzino Ragazzi, 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 ascoltate anche me ogni tanto Michele Borrelli era presente alla conferenza, oggi alla sede dell'Inter Si è aperta con Marotta, giusto? Allora, sentiamolo Marotta sul rinnovo di Inzaghi Insieme a noi a guidare la squadra campioni d'Italia Avremo ancora il mister Simone Inzaghi Con grande piacere, quindi, voglio innanzitutto comunicarvi ufficialmente Che il rapporto con Simone continuerà fino al 2026 Con la speranza di proseguire ancora oltre Simone è il nostro bravissimo condottiero In questi tre anni ha consolidato la propria leadership Ed ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza Garantendo all'Inter un calcio moderno e spettacolare Creando un gruppo in grado di rappresentare al meglio I valori più autentici dello sport Valorizzando moltissimi giocatori e conquistando meravigliosi trofei La nostra Inter è una squadra consolidata Che può aguantare una forte mentalità vincente E spirito di gruppo Guidata da Simone Inzaghi che è il nostro leader Allora, io voto Marotta e non Mattarella Cazzo, veramente Lui ha questo plomb molto politichese Non l'ho mai visto leggere Non l'ho mai visto leggere No, Michele, raccontaci un po' È stato un discorso introduttivo Che ha toccato diversi temi E anche diversi, devo dire, ormai cavalli di battaglia Del presidente dell'Inter Perché ne ha parlato anche nei vari premi ricevuti Ieri per esempio la stella d'oro del CONI a Roma Ma in quest'estate insomma Pluripremiato Gli hanno conferito i colleghi Quindi colleghi voglio dire No, però per dire che lui ha molto a cuore Insieme al cartone e la latta Prima di diventare presidente dell'Inter Aveva detto che si vedeva non in un altro club dopo l'Inter Ma in un ruolo anche di politica sportiva Perché è vicino a questi temi È molto sensibile a questi temi E continua a dire che il problema del calcio italiano È dare la possibilità ai ragazzi Anche di scelti meno abbienti Di giocare a calcio gratis Devono esistere i centri federali Provinciali Dove i ragazzi non devono pagare Perché è una cosa assurda Che per giocare a calcio Ci siano le scuole a calcio A pagamento Invece di fare i carrozzoni ai mondiali Agli europei Portando presunti sponsor Perché lì dove in Germania Sembrava di essere in un villaggio Vacanze Invece Lì devi fornire a tutti E' chiaro che c'è una certa Scusami Che volevo interrompere Perché è una vergogna È una vergogna Che un ragazzino Anche magari Deba pagare per giocare a pallone Perché tu fai una selezione di città sociale Non una selezione tecnica E poi ci sono degli No però ci siamo arrivati qua No no ci siamo arrivati Perché nel discorso di Marotta Cioè questo è uno dei temi Che gli sta a cuore Ne ha parlato Ha parlato anche di questo Legato a questo Così ci colleghiamo all'Inter Perché poi il tema è l'Inter Lui ha sempre parlato Mi ricordo all'inizio Mi fece un po' effetto Perché arrivava dalla Juventus Quando lo disse la prima volta Poi l'ho capito Coniugato con i fatti Uno dei concetti chiave di Marotta Oltre alla cultura della vittoria La cultura del lavoro È l'appartenenza E lui dice sempre Che l'appartenenza Significa avere un blocco di italiani Poi l'Inter ha vinto Col blocco degli argentini Il triplete per dire Però intanto Inizia a avere un blocco Lui dice E' più facile Se io lavoro sul blocco degli italiani Perché loro possono capire Per esempio Cos'è il derby Per esempio Cos'è la Juventus Per esempio Cos'è la Serie A Per esempio Quando ti viene a corteggiare Una squadra straniera Tu puoi anche preferire L'Italia Milano E quindi Oggi Con Barella Bastoni Di Marco Lo stesso Acerbi Darmian Cioè ha messo frattesi Tanti tasselli Attorno ai quali Sta costruendo questo gruppo Che lui dice solido Però riconosce Dopo averlo criticato Perché tu mentre parlava Ricordavi L'anno scorso Inzaghi Era in discussione In primavera Però Dopo anni in cui L'Inter giocava con 11 stranieri Qualche italiano c'è adesso No capito Oggi Ne ha presi tre stranieri Voglio dire che Riconosce Come è stato furio Critico Con Inzaghi Nel momento in cui Si rischiava di non andare in Champions Poi è stato bravo A rimettere la barca in sesto E arrivare addirittura Anche in finale di Champions Adesso riconosce A Inzaghi Perché in questa Inter Che ha vinto lo scuetto Ci sono tanti meriti Inzaghi E dicevo prima Marica fuori onda Ci sono Lei lo conosce bene Perché è stato tanti anni Alla Lazio Ci sono tanti interisti Che gli fanno il riconoscimento Più bello Sai qual è? Da 50 anni Vado a San Siro Non ho mai visto l'Inter Giocare così bene Prima dicevano Sì però non vince Ha perso lo scuetto col Milan Adesso ha giocato bene Ha pure vinto Ha messo a posto la difesa Perché quest'anno Ha preso pochi gol E quindi voglio dire Cioè È normale Mettere anche Al centro del progetto Tu dici allora Perché non gli hanno fatto Tre anni di contratto Non gli hanno fatti due Perché l'anno prossimo L'Inter vuole avere sempre L'autonomia Il coltello Dalla parte del manico Di poter dire Valutiamo l'anno E andiamo Tanto che Marotta Non è che aspetta Non è che dice Il ciclo finisce l'anno prossimo No dice Speriamo che possa andare Anche oggi No dice che non è nemmeno Alla metà Questo di Colinzaghi Però Michele è vero Ogni fa solo un anno in più Ecco esatto Cioè non è neanche a metà Ma è legato ai risultati Perché se tu gli fai solo un anno Vuol dire che se lui Non vince l'anno prossimo Probabilmente Ma perché Marotta Crede Che la sticella Debba essere molto alta Tanto che lui Ne abbiamo parlato anche molto Ieri sera Perché l'aveva detto Proprio Alconi Quando è stato premiato Che l'Inter Non deve ambire solo A lottare per vincere in Italia Ma Tutto per poter Alzare la sticella Anche in Europa Che per me È una cosa veramente Coraggiosa dirla Perché oggi ci sono delle E ho capito Ma in Europa ci sono Delle corazzate E devo dire che oggi Mi aspettavo Che Inzaghi Dicesse Sì però ci sono Quelle squadre Invece no Inzaghi ha accettato La sfida oggi Ha conservato Quello che ha detto Marotta È un'incongruenza Perché è incongruenza Io ho riportato Quello che dice Marotta No Te lo spiego Perché secondo me È un'incongruenza Quello che dice Marotta Ah ok ok Se io Individuo In Simone Inzaghi Quello che è il mio allenatore Del Recente passato Presente E futuro E quindi il ciclo Non è nemmeno a metà E io non gli faccio Un anno in più E beh Lo blindi Cioè se io ritengo Simone Inzaghi Il mio allenatore ideale Ma tu lo sai Quali può portare Una striscia di successo Incredibile Ma non è che può portare La sta portando Questo è il terzo periodo L'ultima volta è stato Mancini quattro anni Ma il quarto fu l'ultimo Poi dobbiamo risalire A Trapattoni cinque anni Berselini cinque anni No ma è Herrera Negli anni 60 No ma per dire che questo Se lui rispetta Questo contratto Batte tutti i record Di longevità Dietro Herrera È vero Però per rispettarlo Lui è obbligato A vincere Questo voglio dire Il contratto Non è una fiducia incondizionata Non è una fiducia incondizionata La fiducia incondizionata Non lo è Però teniamo conto anche Del ruolo di Marotta Che è un ruolo particolare E secondo me È anche giusto Che abbia fatto così Io lo ritengo giusto E Simone Simone Inzaghi Però non dice certe cose Anche in conferenza Ha detto Ecco brava Volevo farvi sentire Inzaghi Perché abbiamo sentito Marotta Ma ho Inzaghi Che commenta il suo rinnovo Sentiamolo Sono felicissimo Ringrazio la società Il presidente Tutti i dirigenti Che Che sono qua Mi sento a casa Mi sento Apprezzato Ed è questa La cosa che conta Più di tutto Insomma Non siamo mai stati lontani Mai In questo mese e mezzo Che è finito il campionato Quindi Ringrazio la nuova proprietà E tutti E tutti i dirigenti Sono passate 158 partite Ma Come ha detto Il nostro presidente Insomma Speriamo che ce ne siano Che ce ne siano Altrettante So Che non è semplicissimo Mantenersi Tanti anni In queste grandissime squadre Ma È il mio grande obiettivo Non solo quest'anno Mi fa piacere Insomma Da quando allenavo La Lazio Anche il primo anno Di Inter Quest'estate Sì Non lo nego Ma non ho mai pensato Minimamente Di andare via Dell'Inter Perché Sono in un posto Dove mi sento apprezzato E quando mi sento apprezzato Non Non sto neanche a sentire Quello che potrebbe essere Cosa potrebbe succedere Perché mi sento realizzato Mi sento Mi sento in una famiglia Mi sento in un ambiente Dove sto bene Dove C'è una grandissima sinergia Con la società Con i ragazzi Con questi splendidi tifosi Quindi Fanno piacere Gli apprezzamenti Ma Non sono stati mai Nei miei pensieri Insomma Dice di aver ricevuto Anche delle proposte Un po' eccessivo Un po' eccessivo È stato vent'anni Alla È stato vent'anni Alla Lazio Però vedi Allora io Adesso ho visto Lo scudetto con Conte E lo scudetto con Inzaghi Lo scudetto con Conte Eri sempre sul chi va là Ogni giorno Ogni vittoria Ogni partita Ma di scudetto si tratta Hai vinto due volte No ho capito Ma lo scudetto Non me lo sono nemmeno Tanto potuto Poi Cioè me lo sono goduto E che cosa volevi Tutti i fiori Era un terremoto Tutti i giorni Con Inzaghi invece Io con Inzaghi Oltre alla vittoria Sono anche sereno Vivo Il calcio In modo più sereno Ed è Un modo Che diciamo Ti fa stare anche bene E ti consuma meno Perché poi alla fine Conte ogni due o tre anni Se ne va Il tifoso deve consumare No però Franco Scusa è bello avere il cibo Noi parliamo sempre di cibo I cicli E poi io all'Inter Seguo l'Inter dagli anni 80 Ormai i cicli Non li vedo mai Perché stavolta invece Con una dirigenza strutturata E un allenatore Di questo tipo Finalmente si può fare Un ciclo Con Tu vai a prendere Però gli fai Un anno di contratto Ma sono cinque anni di contratto Franco è arrivato nel 2021 Ad oggi scade nel 2026 Allora Lascia perdere quello che è stato Il passato Io ti sto dicendo Semarotta cita il fatto Che il nuovo corso Nuovo ciclo vincente Possibilmente vincente Non è nemmeno alla metà Non è nemmeno alla metà Allora io ho individuato In Simone Inzaghi Il mio allenatore ideale E non li faccio Ma non mi sembra così Perché io non devo lasciare Le persone Mi chiede un secondo Voglio sentire Marcello Che non ha ancora parlato Anche tu sei dell'idea Che è un rinnovo Meno Non so come dire Meno soddisfacente Di quello che Ci si potesse aspettare Per Inzaghi Beh da quello che so io Meno soddisfacente Penso che non lo sia nemmeno Per Simone Inzaghi Perché da quello che so io Lui col suo procuratore Chiedevano 2026 2027 Se non va ad errar E hanno tenuto Soltanto un anno Però Marcello Di contrattare Gli hanno dato un buono Scusa 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 Un secondo Poi non vorrei Che in tutta questa storia Non ci sia soltanto Il parere Di Marotta Ma sia subentrato Anche Occhitri Che abbia detto Oh ragazzi Non esponiamoci Così tanto Con questo allenatore Perché poi anche Noi non sappiamo Minimamente Quanto resteremo E che magari Vendiamo la società Arriva quello nuovo E se quello nuovo Il nuovo proprietario Vuole tenersi simonizzato E se lo tenga lui E lo faccia lui Il contratto Da quattro anni Cinque anni Dieci anni Capisci Non vorrei che fosse subentrato Anche No però Marcello Non mi risulta Marcello Non penso questo È un mio ragionamento È un mio ragionamento Perché Marotta Non è che sto dicendo Pieno potere In questo senso Però Fa stupisce Ma no Ma io l'ho detto Il fatto che c'è un allenatore Ma si Amplacatemi un altro Sì ragazzi Facciamolo parlare Perché davvero C'è il ritardo Non si parla sopra i collegati Dai Prendetemi un valeriano Ogni tanto lì Al baretto Le dicevo Ne stiamo parlando È perché tutti noi Siamo stupiti Del fatto che Un allenatore Chiede 2027 E si accontenta di un anno Il presidente parla Di Il nostro leader Il nostro condottiero Vogliamo continuare A vincere con lui Un anno solo E fa una conferenza stampa Per un anno solo La Juventus Per un anno solo Di contratto Fanno le foto Con i fotografi Da mettere sopra il sito Non fanno una conferenza stampa Per un anno solo Ma non è un anno Un anno in più Questa era la conferenza Di inizio stagione Però non era fatta a posto È molto semplice Era per parlare Del rinnovo di Inzaghi Allora io penso Diversamente Da quale ragionamento Di Marcello Che ci può anche stare Per carità Che Marotta Abbia un potere pieno Che con Octri Non c'entri niente Ok Perché è proprio Lui ha pieno potere Di decidere Decisionale Per il momento E ha deciso così E secondo me È anche giusto questo Perché è un modo proprio Di andare avanti In maniera adeguata Cioè se tu Se loro avessero fatto Fossero ad incontro Ha la proposta Fatta da Tinti Insomma In quanto procuratore Agente Di Simone Non sarebbe stato Diciamo Non sarebbe stato Neanche giusto E conforme Alla linea Che vuole Che sta adottando Marotta E Simone Vi dirò Anche lui Alla Lazio Diceva Di sentirsi Molto apprezzato Però Marica Gli hai fatto Un ingaggio Altissimo Ecco Quello volevo dire 6 e mezzo Più bonus E dicono Che i bonus Siamo altissimi Scusami Quello volevo dire Adesso mi stava sfuggendo Gli hai fatto 6 milioni e mezzo Di ingaggio Ragazzi Più bonus Appunto Quindi c'è stima E se tu vinci 8 milioni Hai anche 2 milioni Di bonus Infatti nel metodo Ma infatti Nel metodo Marica Per avvalorare Quello che dici Scusa Franco Per avvalorare Quello che dice Marica Cioè lui per esempio Marotta Non parte mai Con un allenatore In stagione È un metodo Esatto Così come andare Lui si è ritrovato Una situazione Con Spalletti Non c'era Marotta In scadenza Dice Sì Perché quando Prima che arrivasse Marotta Spalletti arrivò Quarto all'ultima giornata E c'era piena euforia E convince In quel momento Zang Che gli volevano fare Un anno di contratto in più Spalletti disse no Io adesso però Ho tenuto l'obiettivo Mi fate fino al 2021 Le cose cambiano Nel calcio Due anni Sono un'eternità L'anno dopo invece C'era all'Inter Un casino pazzesco Tra Inzaghi La fascia Conte contattato Marotta Che era arrivato E alla fine Si è dovuto pagare Due anni di contratto Spalletti Allegri È tornato Sul cavallo bianco Alla Juventus Chi poteva immaginare In quel momento Che Agnelli Poi non c'era più Che cambiava il mondo E due anni Quando si è ritrovato Giuntoli Due anni erano tantissimi Magari Giuntoli Avrebbe anticipato L'anno scorso Per dire che avere Un allenatore Sotto contratto Per due anni Quando poi finisce La stagione L'anno prima Ti può sembrare Un tempo breve Ma è chiaro È chiaro Dall'altra parte Della bilancia Dall'altra parte Della bilancia C'è il bonus E l'aumento Concordi con me Che un anno È un tempo risibile No Un anno in più Appunto Sono due anni di contratto Tra un anno Più o Tra un anno Se ne è già in scadenza Ma infatti L'anno prossimo Glielo rinnoveranno Finora Questo è il terzo rinnovo Allora Di chi con l'Iter L'hanno aumentato Finora tre volte 2021 l'hanno preso A quattro 2022 Ha perso lo scudetto Col Milan Rinnovo con aumento A più di cinque 2023 Rinnovo senza aumento Ma finale di Champions 2024 Terzo rinnovo Con aumento Con super bonus Ragazzi Se non hai stima Gli dovete 10 milioni Eh ho capito Vuol dire che Di forte risultare Vuol dire che Forte risultare Tra poco E a lei Gli avete dato No Il taggio di Simone Inzaghi Questa volta Parla degli obiettivi Stagionali dell'Inter E parla anche Della concorrenza Perché insomma Le altre squadre A parte il Milan Che però comunque Ha cambiato allenatore Hanno anche fatto Diversi acquisti Sentiamo Inzaghi Si riparte tutti da zero Con delle squadre Che Qualcuna si dichiarerà Qualcuna no Tutte quante Avranno la voglia Di vincere Come l'Inter Senza dimenticare Quello che è successo Negli ultimi due campionati Perché le ultime due Vincitrici dello scudetto Che sono state Il Milan e il Napoli L'anno successivo Non si sono qualificati Nelle prime posizioni Per disputare la Champions Quindi I miei ragazzi Lo sanno Gliel'ho già ricordato Sono tornati Due ottimi allenatori Come Conte e Fonseca Che erano già stati Qui nel campionato italiano Quindi sono due ottimi tecnici Le nostre avversarie Si stanno Si stanno rinforzando Quindi Noi ci dovremo Far trovare pronti Per forti Chiaramente La Juventus Sta cambiando Ha cambiato guida tecnica Arrivato un ottimo allenatore Che stimo Che ha fatto un ottimo Un ottimo percorso Al Genova Allo Spezia E al Bologna E Chiaramente Sarà Un antagonista Molto molto pericolosa Come Sono le altre Di cui ne ho parlato prima Per quanto riguarda la Champions Il nostro obiettivo È quello di andare avanti Il più possibile Chiaramente Sappiamo che Andiamo ad affrontare Delle grandissime squadre Con Con dei budget Grandissimi Però questo Non deve essere assolutamente Un alibi Insomma Perché Abbiamo visto due anni fa Cosa siamo stati capaci di fare Il mio primo anno Abbiamo incontrato Il Real Madrid e Liverpool Che poi hanno fatto le finali E Non c'erano state superiori Quindi Al di là dei budget Di quello che si dice Conta l'interpretazione E la voglia Insomma Che mettono i ragazzi in campo Tutta la Scusa Furio No Arrivo da te Però io guardavo Marcello No Con la coda dell'occhio Tutta la clip di Inzaghi Marcello Che si dimenava Cosa ha detto Che ti ha fatto così Arrabbiare Marce? Ma tutto Prima di tutto Una conferenza piena di ovvietà Siamo forti Vogliamo vincere Vabbè Ma poi parte con la solita scaramanzia Ma scusa Ma hai fatto una finale di Champions Hai appena vinto uno Scudetto e la Stella Cioè parti ancora Eh però Il Milan e il Napoli L'anno dopo Non ho mica vinto Ma basta Sta scaramanzia Seconda cosa Dice Andiamo a affrontare Squadre Con un budget grandissimo Ma dove? In Europa La Juve Compra In Champions No 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 In Champions Marcello La domanda era sulla Champions Ma anche Ma anche Conte Non sviare quello che ti sto dicendo Ma anche Conte, Fonseca e Mop È stato gentile nei confronti dei colleghi Gli hanno fatto la domanda Che doveva dire Ah no La concorrenza non mi preoccupa Fanno ridere No Ha detto sono ottimi allenatori Scusa un attimo Scusa un attimo A proposito di bonus Però l'obvietà è condivisibile A proposito di bonus Ma se tu prendi l'Inter di due anni fa E l'Inter di adesso Il valore giocatore per giocatore È aumentato È aumentato di tanto E altro che bonus Il merito di chi è? Sono d'accordo Di Zaghi Sì Altro che bonus Se va Ma ti possono fare tanti esempi No 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 Però Marotta prende i giocatori I giocatori valevano E tutti quelli che ha preso Sono aumentati Questo è un bonus Da 10 milioni Non un bonus Da 3 milioni Se vinci La Coppa Ma infatti Qualcun Qualche eccezione c'è Però Beh non lo so Correa per esempio Correa Correa Gli stava costando Il posto No ma allora Gli abici E i nemici Non stava a parlare Furio scusami Ho capito Non era giusto Rispondere a quel modo Quindi non è che era Non era Becero Ma quando gli girano le palle No capito Allora ti dico Una volta Era rimasto da solo Era rimasto da solo lì Era solo Ma la volta Che si è Però è rimasto È stato solo Ma gli avevano fatto capire Che doveva arrivare quarto Perché altrimenti Andava a finire male E lui è stato resiliente È stato bravo Perché lui si sentì Non si sentiva indifetto Però Furio se ti ricordi Fu centrifugato di critiche Cioè le regasse di tutti i colori Perse 13 partite in campanato 12 partite Sì Però tante partite perse È il minimo Ma tante partite perse Se ve le ricordate Con gol sbagliati A porta vuota Ma quello che vuoi Ho capito Ma cosa vuol dire No Vuol dire che lui I risultati Ha portato due trofei all'anno Perché ha fatto delle belle occasioni No Ha fatto delle occasioni Sì però non stavano cacciando No che c'entra L'allenatore Deve Va valutato per la prestazione Perché ti mette nelle condizioni di Se poi l'attaccante a porta vuota Sbaglia il gol Sarà mica l'allenatore Ok Tutto quello che vuoi Però Non possiamo dire Che il signore Inzaghi Non è un eccellente comunicatore No no Non è un eccellente comunicatore Secondo me Molte volte dice Spesso e spesse cose Secondo me non è un eccellente comunicatore Non è diciamo uno sciamano Non è uno che entra nella polemica Però Non è uno che entra nella polemica Addirittura Sacchi per un anno Ha detto che era un tattico E non uno stratega Dalla gazzetta Lui ha sempre detto Può dire quello che vuoi Aspetta che ha fatto un discorso Ripetere sempre No però No noi stiamo andando a dire Adesso sentiamo un attimo L'arbitro il VAR Che non ti sono a favore Voglio vedere la polemica Mica se non la fa Dai 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 Lasciamo stare Ma che io l'avevo già sentito All'Inter Quando ci fu l'anno In cui non gli girava tanto bene Con gli arbitri Allora parlava di arbitri Adesso invece Quest'anno che gli è girato Tutto bene Si ricorda che alla Lazio Era molto più polemico È vero Era una cosa che gli imputavano C'è all'Inter Ci ha lavorato su questo Io non lo sento più Posso dire Migliorato tantissimo Non è mai stato molto polemico Questo va detto Neanche alla Lazio Era più istintivo Esatto Era più istintivo Chiaramente negli anni È cambiato Ed è migliorato notevolmente Io concordo assolutamente Con Michele Quando dice Che lo stile È uno stile Gardato Sì ma lo titolo Li fa uscire pazzi I suoi allenatori Poi che dica Vabbè Poi è chiaro che deve rendere Certe dichiarazioni Che a volte sono anche circostante Però posso dirti Marika Oggi io dall'allenatore Che ha stravinto il campionato Giocando bene Mi aspetto magari che dica Qual è l'obiettivo L'obiettivo è rivincere lo scudetto E arrivare nelle prime Quattro decenni Ma lui ha detto un po' Ma vabbè Però nello scudetto Qualcosa di più L'ha detto Non guardato Lui è sempre molto attendista E dobbiamo migliorare Ragazzi l'anno scorso No però scusa su questo L'anno scorso Inzaghi si sapeva Che aveva questa spada di Damocle Questo è il terzo anno Vinci lo scudetto Oppure finisci il ciclo all'Inter E lui alla domanda precisa L'anno scorso 12 luglio Oggi fa un anno Disse l'obiettivo è Lo scudetto della seconda stella Non si tiro indietro Oggi Di nuovo la stessa domanda Non è che poteva dire Di nuovo lo scudetto del ventù Allora ha detto Far felici i tifosi Ma noi non ci nascondiamo Perché ovviamente Da campioni in carica Dobbiamo Quello è l'obiettivo E in Europa L'Inter Prima di Inzaghi Aveva vinto lo scudetto Ma in Europa Non aveva Quella dimensione Che ha riacquistato Con Inzaghi Tanto che lui rivendica Il primo anno Quando esce con Liverpool Perde in casa 0-2 Vince a Liverpool 1-0 Ma anche con Real Madrid Nel girone perde 0-1 in casa Ma fa belle prestazioni Però l'anno scorso Non bene in Cedro L'anno scorso Non bene Ha fatto un girone Di gestione Di gestione Io ricordo però Dopo E con l'Atletico Io ricordo Dopo Istanbul Che lui disse Nonostante abbiamo perso La finale di Champions Però Quella finale Ci ha fatto capire Che possiamo vincerla Che possiamo vincere Ci riproveremo L'anno dopo Hai ragione Quest'anno potreva dire Qualcosa in più Dire quest'anno L'anno scorso Abbiamo preso la seconda stella Quest'anno Anche se ci scontriamo Vi siete Il vice campione D'Europa Io tre volte L'ha detto Marotta però Marotta non in conferenza Ma poco prima Ha detto la Champions Quest'anno Il primo obiettivo Non vincerla però Andare avanti Anche perché ci sono Tanti soldi Scusatemi Le dichiarò Io ho sentito La conferenza stampa Ma anche adesso L'abbiamo sentita Vogliamo andare Andremo Vogliamo andare in fondo A tutte le competizioni E quindi questo Per me Ma è come giusto No ma poi No però Quando No però Scusate E poi scusate L'ultima cosa Voglio dire È stato molto bravo Nel momento in cui è uscito Dalla Champions A caricare i giocatori A non perdere Di vista l'obiettivo Che era Il campionaggio Esatto Il campionaggio vince Aveva un passaggio enorme In classifica Quello sicuramente Però C'era un avoraggio C'era un avoraggio C'era un avoraggio Su quello sì Però sul discorso Champions Oggi era pure facile Dire da parte di un allenatore Dire Come hanno fatto tanti altri I ristoranti Quanto Si spende E no invece Insaghi ha detto Anche le corazzate Ha detto oggi L'abbiamo appena Aspetta Marcello Aspetta Marcello Mi chiede Da qua arrivo da te L'abbiamo sentito prima Il passaggio Ha detto poi In campo Si va con il gioco La squadra E si possono annullare Questi discorsi di fatturati Che secondo me È coraggiosa Come dichiarazione Perché tu stai dicendo Che non vuoi alibi Se perderai con Real Madrid E City Perché queste sono le rivali In Champions Secondo me l'Inter Ha almeno cinque squadre davanti In Champions Mamma mia Assolutamente Ma invece loro Accettano la sfida E dicono che quest'anno Saranno valutati pure Per quello che si fa in Champions Ci sono tanti soldi Anche in palio Quest'anno la nuova Champions Quest'anno la Super Champions Conta tanto Marcello No e volevo fare una piccola polemica Con Michele Quando dice appunto C'è no perché Vogliamo essere competitivi Non so cosa hai detto prima Sì 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 questo Però io non riesco a capire La differenza che c'è Che fate voi dell'Inter Voi dell'Inter Con la Juventus Se la Juventus Partecipa alla Champions League Se non la vince È un fallimento Se viene eliminato Voi però Se vi piazzate È sempre una conquista No io Marcello Ti dico da Voi potete iniziare Da campioni d'Italia Con la seconda stella Dicendo Beh poi Noi ci proviamo Però Vediamo Se la Juve Dice che ci vuole provare E viene eliminata Agli ottavi Fallimento Quello è fallimento Allora Non ho mai capito Come sono le vostre valutazioni Mi sembrano molto partigiane Comunque Vabbè Però tu stai facendo riferimento Secondo me Al tifoso medio Lo spottò tra tifosi Che dice Ah è perso la finale È perso la finale Oggi Se una squadra italiana Come la Juventus Quando perse Anche quando perse la Juve Sono 15 anni Che Juve Due volte L'Inter una volta L'Atletico Madrid Anche due volte Il Tottenham Sono tutte squadre Il Borussia Dortmund Quest'anno Sono tutte squadre Che hanno fatto la finale Da outsider Quindi tu Se mi chiedi oggi La Juve Negli anni in cui ha vinto Scudetto Coppa Italia E persa la finale Di Champions È fallimento Non può essere fallimento Quello Oppure l'Inter di Inzaghi Che è arrivato in finale Di Champions È fallimento Ma non può essere fallimento Dai Cioè se siamo Poi Se vogliamo parlare Invece Passiamo allo spottotratifosi Così c'è perso la finale Premesso tutto Ma quest'anno Sei uscito molto molto male Contro l'Atletico No quest'anno sono d'accordo Che l'ottavo di finale L'Atletico Madrid Era L'Atletico Madrid Era una squadra Secondo me Nella dimensione Anche se parliamo Di soldi Risorse Giocatori che ti puoi Nella stessa dimensione Dell'Inter Quindi siccome l'Inter Quest'anno però Stava giocando molto bene Con l'Atletico Madrid Si poteva passare Ma infatti Vista la partita a San Siro In Spagna Anche tutti i giornali spagnoli Hanno detto L'Inter Ha tenuto l'Atletico in vita L'Atletico è venuto a Milano A fare le marcature Gliorente Giocava su bastoni Cioè giocava il loro A seconda punto E hanno perso Solo 1-0 Quello è stato l'errore Dell'Inter Che non è riuscito A capitalizzare Tu hai trovato l'Atletico Per non parlare Dell'errore solo 1-1 Perché non hai fatto Un girone brillante Perché ci ricordiamo No ma l'Atletico È andata bene il girone Perché l'Inter Quali partite misurate La Champions Si è fatta anche Ma ti sto dando ragione Il sorteggio È andato anche bene Perché potevi capitare Già con le corazzate La seconda Però In giro dovevi vincere Potevi fare decisamente In giro E dovevi fare meglio Dovevi fare meglio L'anno scorso L'unico punto Così L'unico neo L'unico neo È quello Sì è quello Però io È una ferita Perché poi Hai perso tanti soldi Soldi e prestigio Questo è evidente Che era l'obiettivo Di Zanga Adesso sembra che Zanga ci fosse Però Quest'anno Secondo me Quest'anno Ragazzi Adesso Quest'anno Lui si giocava Il futuro In campionato C'era Non dico l'ossessione Ma quasi Della seconda stella A Bologna L'Inter Aveva più 20 Che io ho detto Ma andiamo con la primavera Andiamo con la primavera Hanno fatto la partita Della vita A Bologna 0-1 Con Tiago Motta Che ci teneva alla morte Sì Tre giorni prima di Madrid A Madrid Il secondo tempo Sei calato Magari Non saresti calato È vero che è arrivato Anche con dei giocatori Un po' fuori forma Come Turam C'era Luce veniva La Champions Eppure la competizione Dei dettagli Però quest'anno La Champions Era in secondo piano E la dimostrazione È che la partita decisiva Per il primo posto Sono in panchina Inter e Real Sociedad A metà dicembre Bastoni Barella Lautaro Martínez In panchina I titolarissimi I titolarissimi Perché dovevi andare A Roma con la Lazio Cinque giorni dopo Era martedì Domenica Quindi potevi tranquillamente Quest'anno è un'altra storia Devo fermare ragazzi A rientro Chiudiamo con l'Inter Però il mercato Perché oggi si è parlato Anche di questo Un mercato che è quasi completo Ma ancora manca qualcosa C'è ancora con l'Inter Questa volta però In chiave mercato Allora intanto Andiamo ad ascoltare Inzaghi Su chi è già arrivato All'Inter Ovvero Martínez Zierinsky E Taremi Inzaghi Complimenti Per quanto riguarda Taremi e Zierinsky Insomma Zierinsky Lo conosciamo tutti È il giocatore A parte l'ultima stagione Nelle ultime Nelle ultime cinque stagioni Era il giocatore Che aveva giocato più partite Da titolare In tutta In tutta la Serie A Penso Tantissime Adesso non ricordo Un numero preciso Ma mi ricordo Che era uno Era il primo giocatore Negli ultimi cinque campionati Ad aver giocato più partite Quindi è un giocatore Che da tanti anni Che è in Italia Ha ottime qualità Quindi ci darà Una grandissima mano Taremi Insieme a Marotta A Usilio e Baccini L'abbiamo L'abbiamo seguito Per diverso tempo Ci aveva impressionato Molto Nel Nel doppio confronto Con noi In Champions Poi abbiamo continuato A seguirlo È un giocatore Che Si integra perfettamente Nel nostro modo di gioco E sicuramente Ci darà una grande mano Per quanto riguarda Martínez Potevamo scegliere Insomma Avevamo Una buona scelta Di ottimi portieri Siamo andati su di lui Perché ha fatto Due ottime stagioni Nel Genova Secondo me Si sposa bene Con i nostri principi Principi di gioco Chiaramente Sa che arriva Avrà davanti Sommer Che è il titolare Però È un ragazzo Con cui ho parlato È voglioso È contentissimo Di essere venuto all'Inter Le partite sono tante E quindi Ci darà una grandissima mano Insomma Vabbè Parole importanti Per Zielinski Taremi E Martínez E direi Eh Sono giocatori che meritano Per raffondare il coltello Nella piaga L'unica cosa L'unica cosa Per carità Taremi Però ripeto Forse Non eravamo In onda Con Michele 15 milioni 16 milioni Per il secondo Portiere Che È destinato A diventare primo In una stagione Come questa Dove Per carità Non è che ci sono Delle emergenze Però Aumentano Soprattutto Le partite Io avrei fatto Un altro tipo Di Lo sai Furio Perché l'Inter Quest'anno Ha voluto prendere Il portiere A parte Per esempio Con Andanovic Se l'era un po' Trascinata 15 milioni Ma ti dico I motivi Che mi vengono in mente Cioè allora Intanto era già Successo Con Andanovic Se l'era un po' Trascinata Perché vabbè Sempre Andanovic Parecchio Qui si poteva iniziare A dire Vabbè però è Sommer Ha fatto ancora bene Sommer ha fatto Anche un buon Buon investimento Nonostante L'Inter Però l'Inter In questi anni Ha perso Se ti ricordi Per esempio L'anno scorso Vicario Perché gli aveva detto Di aspettare E questa cosa Era successa Già un paio di volte Adesso Vicario Fra parentesi A un buon prezzo Quest'anno Si erano posti Come obiettivo Di prenderlo Il portiere Che fosse un tassello Rispetto magari Gli altri due tasselli Che sono se vogliamo Due barra tre In sospeso Per il 2025 Perché l'Inter Sta già lavorando Per il 2025 Per esempio Fabian A 12 milioni L'anno prossimo Lo riprende Poi stabilirà Se rimane Sta prendendo Tesman Dal Venezia Lo manda in prestito Che è un medianone 2001 Poi le tre zone di campo Su cui lavorerà In prospettiva Sono il centrale Dove ci sono ad oggi Acerbi De Vrai L'esterno destro Dove Dunfriss Sta per rinnovare Maced Armian Che ha una certa età Vice E la quarta punta Dove c'è Arnautovic Ma Valentin Perché non vuole andare via Arnautovic Tra l'altro Arnautovic rimane L'hanno detto L'hanno anche Ridetto Però oggi appunto Poi magari Lo dobbiamo ancora sentire Ma non so se possiamo Iniziare a parlarne Perché Marica dice di Valentin Valentin Carboni Oggi abbiamo chiesto Richiesto Lo sentiamo Ok lui ha risposto Lo chiedo alla regia Se lo possiamo aggiungere Perché io non l'avevo Inizialmente Previsto in scaletta Però Inzaghi parla Di Valentin Carboni E fa capire Che forse Potrebbe rimanere Spazio E' vero che ha avutato 30 milioni Noi con Carboni Abbiamo un'opzione in più Perché Carboni può Chiaramente A seconda delle partite Puoi anche cambiare Metterti con due giocatori Che lavorano sotto Sotto una punta In qualche partita Può anche fare Il quinto offensivo Nel momento in cui Tu mantieni 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 due quinti Carboni può Rimanere da una parte Largo Puntandoti sempre l'uomo Come ha fatto qualche volta Anche quest'anno nel Monza Quindi Il fatto di avere Carboni in rosa E' un qualcosa Che ci può migliorare Perché noi sappiamo Che La caratteristica Dell'uno contro Uno negli ultimi Negli ultimi tre anni Non ne abbiamo tanta Ma compensiamo Con tantissime altre qualità Che hanno i nostri giocatori Non dimentichiamo Che quest'anno Insomma Tra di noi Abbiamo anche Carboni Che abbiamo visto tutti Quello che è capace di fare Insomma L'ha detto più volte C'è un giocatore su cui punta Non ci sta dicendo questo No però è stato sincero su questo Allora l'Inter negli ultimi anni Prima di Turam Soprattutto se vi ricordate Quando Dzeko calò Nel girone di ritorno L'Inter o andava Con tutta la squadra Nella metà campo avversaria Invece grazie a Turam È riuscita a volte Anche ad abbassarsi Aveva questo giocatore Che ti faceva creare Le occasioni da gol Andando dall'altra parte Ne ha pochi di questi giocatori Ha provato con Buchanan Adesso purtroppo Si è fatto male Perdendo Sanchez Sanchez era uno Che si ha giocato poco Però quando dovevi Scardinare le difese Le partite bloccate Sanchez trequartista E due punte A oggi non ce l'hai Quel tipo di giocatore Perché Taremi Non è trequartista Mkhitaryan non può essere messo Però fa più Sì anche Zelischi Mkhitaryan Però lui appunto Parla di questi giocatori Tra le linee Che secondo me Valentin Carboni Ha caratteristiche diverse Da tutti gli altri Ora però non è detto Che rimanga Perché c'è sempre Lo stesso Marsiglia Di De Zerbi Che a maggior ragione Se perde Greenwood È interessatissimo Ma è vero che vale 30 milioni? No l'Inter Non vorrebbe scendere Se 35 Sotto i 35 Ha rifiutato 20 a gennaio Per quello che ha fatto Vedere finora È una scommessa Ma l'Inter infatti Dice questa cifra Perché vorrebbe tenerlo Al massimo prestito Cioè parlavamo prima Di Sule Sule però ha un anno Da titolare in Serie A Da titolare nel Frosinone Con un tot di gol Mi sembra che Valentin Carboni Non era titolare a Monza Abbia fatto cose interessanti Ma Sule e in Coppa America Ha giocato 14 minuti In tutto il torneo Esatto Senza continuità Ma Sule la Juventus Vuol fare cassa Per prendere altri Valentin Carboni L'Inter lo vende A mal in cuore Se arriva l'offerta irrinunciabile È un po' di ve Com'è No però si resta l'Inter Per quanto spazio può avere Questo voglio capire Ah no certo Per questo Lui l'ha spiegato Sottolineato anche Le caratteristiche tecniche E come impiegarlo E quella potrebbe essere utilità Però ha ragione Federico Non sarebbe titolare Non sarebbe la prima alternativa Perché secondo me Se manca uno tra l'autore Turam Cetta Remy Come prima alternativa Sicuramente è tanto Quindi devi avere Forse la terza alternativa E un giovane così Se non gioca Lo sai benissimo Non viene fuori Ma infatti potrebbe andare in prestito Però ci sono delle partite In cui le sue caratteristiche Non ce l'ha in rosa Io mi sento più sicuro Considerando Arnautovic Che ha avuto un anno problematico A 35 anni Non è tra le lì Non mi sembra arrivato Per questo Secondo me Durante l'anno Valentin Carboni Può diventare Può avere addirittura Più minutaggio di Arnautovic Quindi Marcello Alla fine L'Inter Se lo dovesse tenere Rinuncia All'idea di prendersi Che ne so Gudmundson Si tiene Carboni E lo impiega al bisogno Questa è l'idea Sarebbe anche ora Sarebbe anche ora Ne parlano tutti Come se fosse un fenomeno Vediamo il suo fenomeno Perché C'è il Monza Ha fatto la riserva Non è che ha fatto il titolare Quindi vediamo Almeno lo valutiamo Poi Per quanto riguarda le valutazioni Non starei nemmeno Tanto lì Dice Eh vabbè Ma l'Inter Lo stravaluta Le società Ormai Ragionano in maniera Diversa da noi Noi diciamo Ah ma quel giocatore Vale poco Per noi Può valere 15 milioni 10 milioni Loro Fanno altri tipi Di valutazioni E quindi Se trovano quello Che gli dai 30 milioni Che chiedono 35 E lo vendono Ma il mercato è questo Tanto sai Marcello Il mercato è fatto Da domanda offerta Se arriva un club E davvero Ti mette Quel pacco di soldi Ha tutto il diritto Di valutare I giocatori come vuoi Ah ovviamente Poi bisogna vedere Se riesci A metterli sul mercato E ricevere Quel pacco Ma perché l'Inter Non ha la seconda squadra Ovvio Marotta Ha sempre risposto Che la prima problematica Sono le strutture Cioè Non avere Eh sì Però allora Quest'anno L'Inter Dove gioca la Juve Woman L'Inter Woman L'Inter Woman Gioca all'Arena All'Arena Sì Gioca all'Arena Però magari è anche una questione Di campi d'allenamento Magari è anche una questione Di campi d'allenamento All'Arena Vi dico che però Per esempio Quest'anno c'era l'Alcione Che non ha avuto l'autorizzazione Perché la Serie C All'Arena Non te la fanno usare Però puoi andare Quindi neanche l'Inter La del 23 no Sì però scusami Scusami La Juventus Woman Ad esempio Va a giocare a Biella Non dirmi che L'Inter Se fa la seconda squadra Non trova un campo Che ne so A Solbiate Il Milan No a Sesto L'Inter prima andava a Sesto Ma per dire Faccio un esempio Ma infatti Marcello Ma infatti non ha rinunciato Allora quest'anno Il posto che si liberava Con l'Ancona Se l'Inter avesse voluto Aveva la precedenza Per i risultati sportivi L'Inter ha rinunciato E il Milan invece L'ha preso il posto L'Inter ha voglia di farlo E oggi Si presume che possa essere Con tutti i giocatori Ma oggi si presume Che possa essere l'anno prossimo Però ripeto Alla domanda Che è stata fatta più volte Marcello ha sempre risposto Che oggi È una questione di strutture Ci sono ancora solo tre posti Perché ci devono essere Massimo sei squadre B È stato detto Quindi tre già ci sono Ma scusa Oltre alle strutture È una questione di denaro Permettere Sì poi certo Devi creare Una squadra E certo Una squadra B Costa tantissimo L'Inter Comunque Di calcio vero Come quello di C Ma poi magari Aveva anche un cambio Di proprietà possibile In corso Mi faccio ascoltare L'ultimo passaggio di Inzaghi Parla del mercato Perché oltre al discorso Carboni Nuovi acquisti C'è un tassello da coprire Che è quello del difensore Sentiamo se Inzaghi Ci ha dato qualche indicazione Oggi Adesso Chiaramente Abbiamo avuto Questo contrattempo Con Con Buchanan Che chiaramente Dovremmo Stiamo già Valutando Insieme Insieme Ai dirigenti Dobbiamo chiaramente Completare In quel ruolo Perché sarà un'assenza Fino Fino a Natale Di un ragazzo Che si stava ambientando Che stava facendo Molto bene Vogliamo andare lì A prendere un giocatore Che può essere utile Per Per fare Il vice bastoni Per aiutarci Insomma Nelle rotazioni Fermo restando Che Questa urgenza Sappiamo che c'è Ma non è che ci fa perdere Il sonno La notte Perché Abbiamo visto Che In quel ruolo Gli ultimi sei mesi Carlos È stato Strepitoso E l'anno prima Cerbi Quando gli ho chiesto Di fare il brocetto L'ha fatto molto bene Anche lui I nomi che sono usciti Che ci sono detti Sono tutti giocatori Che interessano all'Inter Poi Chiaramente Ci abbiamo Ci abbiamo Un presidente Ci abbiamo Una società Ci abbiamo Un Un confronto Continuo Sono Quelli che sono usciti In questi nomi Sono In questi giorni Sono nomi Che interessano all'Inter Poi chiaramente Bisogna vedere Anche la disponibilità Che Che ci sono I giocatori Chiaramente Verranno interpellati Come ho detto Abbiamo Ho questo desiderio E senz'altro Sarà Sarà colmato Per quanto riguarda Il mercato Mai Mai dire mai Insomma Poi ho Ho la fortuna Di avere Dei professionisti Qua davanti a me Che Sono maestri In questi E Mi hanno sempre Aiutato In questi anni Allora Hermoso Quindi Ce l'ha confermato lui È uscito Ed è un nome Che interessa Poi piace Dopo lui Ha avuto modo Anche di parlare Un po' in privato No? Sì sì Abbiamo scoperto Qualche A proposito Di gerarchie Ma Zanetti Ci è rimasto molto male Perché non è diventato Presidente Ma non credo Lui è sempre stato Felicissimo A differenza di Maldini Per esempio Che ti ricordi Io ho un compito Oppure posso pure Non stare nel Milano Infatti Mentre Zanetti È sempre stato Diciamo Grato Per parte La famiglia E poi Si è preso Gli spazi Nel tempo Un po' studiando Sì Hermoso Cos'hai scoperto Solo Facchetti È rimasto Ex calciatore Stato presidente Hermoso E Tra l'altro Mi ha fatto venire in mente Un'altra cosa Che Marotta Se vince il campionato Diventa Il terzo presidente Era successo Solo più di cent'anni fa Che il presidente Eh Quelle sono le tue statistiche Sì 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 No Hermoso 30 secondi Hermoso Hermoso Piace a tutti All'Inter A partire da presidente Dirigenza Allenatore Però C'è questa linea Che purtroppo Abbiamo iniziato A imparare A conoscere Con il Milan Dei fondi Che vogliono Soprattutto Giocatori Che possono diventare patrimonio Quindi più Sull'età Più giovani E quindi Io su questo Non riesco bene A condividere Questo tipo di filosofia Perché è una questione Di filosofia Perché non è che Costa di più E Taremi è giovane No Taremi era già stato preso Taremi e Zerischi Loro hanno preso loro Ragazzi C'è la sigla Loro hanno preso Martinez Finora E quindi c'è questo profilo Di cabal Che può essere Un profilo giovane Che può poi essere